ciao amici e amiche altro episodio altra missione altra storia altra altra navigare altro altro non so dobbiamo trovare gile recuperiamo un po di roba sono riuscito a fare il fantasma prima eravamo in otto è molto bello quello che sa kevin la foglie? canapa non so che ne abbiamo tanta di canapa ci sono tutte le torri di guardo oh dire eccola qua ma dov'è ci sono passato cento volte non sono mai passato di qua non l'avamo ancora visto oh le terre si mi servono no a volte non ho beccato tanto si sono lavorato guardi per la balestra questa è una città da non so se c'è un'altra città qui questa è alguna da no ce la facciamo dai no 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 Grazie a tutti! 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 L'altro gioco è quello che è appena uscito venerdì, che è Dragon Dogma 2. Poi vediamo un attimo l'isola, che questa che non l'abbiamo mai vista. Il banale non manca da niente. E poi ce n'è un botto. L'olio migliaia. Vabbè, prima di queste banane. Un filato. Penso che non si possa entrare, penso. Infatti c'è il cosino qui. Vediamo una bella spolveratina. Perfetto. Allora, qui sicuramente ci sarà una mappa del tesoro da qualche parte, ma se non l'ho presa non... Non mi dice di certo di... Vabbè. Bene. Abbiamo fatto il giro. Andiamo. Allora... Allora... È quasi sera, eh? Allora... 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 ogni mezz'ora di gioco non dirmi che c'è la peste proprio dove va la missione io allontaniamo c'è la peste e non c'è qualcosa no ma tu hai lontanato prima con l'amico Kevin siamo riusciti a fare una peste l'abbiamo distrutta in realtà due volte una completamente insieme con altri sette ragazzi 6 ragazzi 2 2 8 a caso però era il momento in cui c'erano allora vediamo un attimo bellissimo ok adesso mi devo impregnare un attimo perché ma questa è quella che faccio con Kevin è in questa è una strata questa è una strata questa è una strata è veramente forte sono fortissimi ragazzi No, 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 no! questo fa male via 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 scappa è vero che c'è un ruolo Grazie a tutti. 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 guarda. Grazie a tutti. 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 Sì, non la finimano qua? Gai, che di non devo girare? No! dai e fare proprio la fine ma deve proprio farmela wow 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 l'ho fatto da solo più che altro che arrivavano anche le altre navi si continuano a ad accavallare navi su navi su navi e diventa veramente difficile farlo tu, farvi vedere qualsiasi missione ma così la nuova di lui va praticamente in questa cosa qua dimmi cosa mi hai dato 3.000 monete basta, tutto qua sto casino cannone devo comprare allora no allora quadrato perfetto questo che cos'è andiamo a direzzi intanto non abbiamo nulla le munizioni dovrei avere qualcosa allora voglio comprare qualcosa dovevo andare a costruirle a fabbricarle dal buio c'è il plebati colpista che non c'è voglia ok pare di cannone balestra vedete ne vendono poche vediamo se c'è da basse no c'è poco da preparati all'ostilità degli olandesi quindi tanta roba qua non è una roba benissimo benissimo palle di cannone io non ne ho ma questo cosa devo fare no devo preparati all'ostilità dei francesi degli olandesi vuol dire che non è buona cosa qui è Tellerman sì dovrebbe essere qua dove mi posso creare però non so quante ne posso creare oh macco macco questo via 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 no e tac tac e tac e tac resti via or ma no marcos caspita deve fare il più possibile forzione misteriosa che deve essere adesso bacca lì carino ma stai a tre ora ora abbiamo già finito il video che volevo farvi vedere la roba vabbè ciao amici e amiche alla prossima ciao amici e amiche alla prossima ciao amici e amici alla prossima